Scaduti sabato i termini per la presentazione della documentazione necessaria alla propria candidatura sindaco, il sorteggio della Commissione circondariale elettorale previsto per ieri per l'assegnazione dell'ordine delle liste dei candidati di Piacenza sui manifesti e sulle schede elettorali in vista delle elezioni dell'11 giugno non è ancora avvenuto. La causa sarebbe da ricercare nella esclusione della lista di Forza Nuova e del candidato sindaco Emanuele Solari con la motivazione che il numero di firme raccolte era insufficiente, 336 certificate, quando ne sarebbero servite almeno 350. Tutto rimandato a domani nel prossimo incontro della Commissione che deciderà il da farsi anche in attesa di vedere se Forza Nuova presenterà ricorso. A Piacenza e quindi i candidati alla poltrona di primo cittadino sono 7, le liste associate 14. I candidati sono, in ordine alfabetico, Patrizia Barbieri, sostenuta dalle liste Barbieri Sindaco Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Nord, Prima Piacenza Barbieri Sindaco, Partito Pensionati, Sandra Ponzini, Passione Civica, Ponzini Sindaca, Andrea Pugni, Movimento 5 Stelle, Luigi Rabuffi, Piacenza in Comune, Paolo Rizzi, sostenuto da Partito Democratico, Piacenza al Futuro, Rizzi Sindaco, Piacenza più Rizzi Sindaco, Stefano Torre, Torre Sindaco e Massimo Trespidi, Massimo Trespidi Sindaco, i giovani per Massimo Trespidi. Tutti i nomi delle liste dei candidati sindaco sono disponibili sul sito www.liberta.it.